Allora la prossima domanda è di Francesca Vitaliani di Radio San Bonifacio. Buongiorno a tutti, la mia domanda è per Gianni. Allora Gianni, quest'anno tra i testi dei big ci sono dei brani veramente molto significativi. Ecco per esempio quello di Tricarico, anche quello di Vecchioni, lasciano trasparire un desiderio di un'Italia più unita, sicuramente più vera. Ma anche quello di Max Pezzali, a modo suo per motivazioni diverse, è comunque un brano molto profondo, ricco di significato. Ti volevo chiedere questo, siccome ci troviamo appunto nell'ambito delle celebrazioni della ricorrenza dell'Unità d'Italia, è corretto pensare che abbiate giustamente voluto scegliere dei testi con un importante contenuto a livello così di valori, anche per onorare questi temi? Sicuramente, noi abbiamo scelto delle buone canzoni secondo noi e i grandi autori parlano e raccontano il momento che stanno vivendo. Quindi è chiaro che Vecchioni ha voluto raccontare un po' qualcosa che non gli piace intorno a sé e rivolgersi e cercare l'amore. Tricarico ha parlato di Unità Nazionale in qualche modo, anche se parte dalla nebbia padana dicendo che lì c'è solo la bandiera verde, poi parla anche del confine dove c'è la bandiera rossa e sul monte c'è la bandiera bianca, però anche quella è dedicata all'Unità Nazionale. Sono gli autori, secondo me, che sono quelli bravi, sono sempre attuali e parlano con il linguaggio del momento e con i temi del momento. Grazie.